Si va? Si va? Si vola? Si vola? Si vola per il Gran Premio della Cina? Speriamo che si possa fare anche quest'anno nella Formula 1 reale. Salve a tutti i carri rinco, se non è ben ritrovati qui con la carriera di Jules Staccada, il numero 1 perché è il campione del mondo in carica. Lo sapete benissimo, chi non lo sa, lo sa comunque dopo questa intro per forza. Allora, 3082 punti di giorso, ormai abbiamo quest'ultimo aggiornamento da poter fare, o meglio, non proprio quest'ultimo, ma ce ne mancano giusto 3, pensate un po' giusto 3 con uno che sta un po'... Anzi, facciamo questo, perfetto. Facciamo anche quest'altro, perfetto. Ce ne mancano 2 con 3 che sono in progress, work in progress, con la resistenza, che vabbè, la resistenza ragazzi sapete che è relativa, alla fine ci troviamo abbastanza bene. La classifica dice questo, 70-56, questo perché il buon vecchio Sebastian Vettel ha vinto le prime due gare con il giro veloce, noi invece abbiamo vinto la terza con il giro veloce. Dunque, ci stiamo un pochino rifacendo sotto, diciamo. Stagione numero 3 in Cina abbiamo fatto terzi con il giro più veloce, stagione numero 2 invece abbiamo fatto sesti, quindi in linea con il Gran Premio del Vietnam. Mentre qui ricordo, senza nemmeno dover vedere, che abbiamo fatto noni, ho visto alla fine, perché non ricordavo se abbiamo fatto Ottavio o noni. Mi ricordo però che in quella gara, per l'appunto, mi sono lamentato fino alla fine, perché pensavo di essere in una tala posizione, ma tutta la gara sono stato nono e semplicemente avevo visto male, completamente male. I primi punti della Tatum sono stati ottenuti qua in Cina, quindi, in un certo senso, questa è una gara veramente molto, molto speciale, molto particolare per noi. Giulia, intanto, vi dico anche che ha vinto ben 3 gare nelle prime due stagioni con 4, 5, 6, 7, 8 gare, 9 gare con quella di Anoel. Dunque ne ha vinte, chiaramente, nella stagione che le ha laureato il campione del mondo ne ha vinte 5 e più di tutti gli altri anni, ma ovviamente la stagione 4 è appena iniziata, con un secondo posto, quarto posto e un primo posto. Mai è iniziata così bene la stagione per Jules. Tra l'altro, ora vedendo anche le statistiche, non avevamo mai vinto prima del 4, 5, 6, 7, nono gran premio. Pensate un po', abbiamo vinto il terzo. Abbiamo vinto al nono gran premio la prima volta in Canada in quella che è stata la gara epica, 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 epica. Direi che possiamo partire, quindi non mi resta che mettere le ultime cose qui e fare avanza fino al prossimo step. Mamma mia, un mostro, un mostro quest'auto, è un mostro. Andiamo. Oh, mamma mia, quanto freno motore che ha. Non aspettavo. Se bisogna di capire un po' il primo settore. Molto lenti al momento. Facciamo ripresi. Insomma, siamo un po' al limite. Abbiamo fatto veramente molto male la prima zona. Roba da tipo 8 decimi, 9 decimi, peggio. Però riusciamo a qualificarci ancora una volta per il rotto della cuffia. in P15 abbiamo fatto un buon ultimo settore, sicuramente. Attenzione, attenzione. 25, 5! Ha dato 5 decimi a tutti. 1,5. 1,5 in ritardo. Eh! Eh! È tosta, è tosta, è tosta, è tosta, è tosta, è tosta. Dobbiamo fare un bello, 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 bello. Ultimo settore. 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 Due minuti alla fine della sessione Dobbiamo mettere a segno un buon tempo sul giro Possiamo dire addio alle sessioni di qualifica Mamma mia 26 e 4 siamo noni Abbiamo fatto un buon giro Un po' mancato l'ingresso di curva 1 Ma era un buon giro Ma che roba è? Pazzesco Pazzesco Un secondo e uno adesso ci siamo beccati E' un altro mondo E' un altro mondo 27 e due tagliato Andiamo Non ho visto fortunatamente il tempo che ha fatto Vettel Grazie! Abbiamo perso due decimi lì Abbiamo perso due decimi In quella cavolo Di curva Di 10 Abbiamo perso due decimi In quella curva almeno Dai siamo un secondo e mezzo Sono completamente scioccato Ma siamo decimi A un secondo e mezzo Dal nostro compagno di squadra E il giro non mi pareva Proprio così tanto brutto No vabbè ma qua quanto va Lì ha Siamo pronti Per lo spettacolo della formula 1 È il momento del gran premio di Cina Qui a Shanghai Dopo le appassionanti qualifiche di ieri Diamo un'occhiata alla situazione in classifica Il pluricampione del mondo Sebastian Vettel parte in pole Dopo una qualifica fantastica Accanto a Max Verstappen Che scatterà dalla seconda posizione Nel resto della griglia invece Bottas Ghiotto Pierre Gasly E Perez Ocon Ricciardo Leclerc E il pilota proprietario Norris Albon Dani Kiat E Stroll Latifi Russell Mick Schumacher E Nobuaru Mattushita Magnussen Sainz Ha preso una penalità in griglia di partenza Devry E Antonio Giovinazzi Parte dall'ultima fila Manca poco E le 5 luci del semaforo presto Si spegneranno Dando il via Al gran premio di oggi C'è stato un errore durante l'intro ragazzi C'ero io In mezzo al commento di Vanzini C'ero io che stavo facendo cose Vi chiedo scusa insomma E Bando alle ciance ragazzi Adesso andiamo a caricare O a scaricare Sarebbe meglio dire La benzina Non ho messo il giro di formazione Dunque non partiremo benissimo Però anche con il giro di formazione Io ricordo che avevamo problemi Dunque speriamo bene ragazzi Speriamo bene Prenderò dei rischi Prenderò molti rischi in partenza Ok Normale 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 La traiettoria era giusta Da quella esterna Se volevo fare qualcosa Ok Bene 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 Sentiamo posto al momento Occhio Mamma mia Abbiamo inchiodato perché Ero molto vicino A Sergio Molto vicino a Sergio Mi sentivo molto a mio agio Per quella traiettoria che sto facendo Mentre Fettel il secondo Fettel viene sverniciato per la prima volta In partenza Da una Red Bull Da una Red Bull No buono questo eh No buono Cioè molto buono per noi in realtà Perché ce lo tiene Fermo Un pizzico di fortuna Abbiamo già guadagnato Quattro posizioni intanto noi E occhio perché siamo veloci Ballerina nel posteriore La Tatum Naturalmente perché è veramente Veramente Mostruosa Pensiamo di poterlo passare così Non posso passarlo così Proviamo esterno Se possiamo mantenerlo così Sì 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 Bloccaggio di Luca Ma passiamo I due italiani in lotta Per il quarto posto E ha la meglio Jules Una volta è strano dire Jules ha staccato Jules Il nome italiano In realtà non è italiano Lo sappiamo benissimo Ma Lui è italiano Ha un nome straniero Occhio perché non siamo lontani E più vicino Bottas A Fettel Che Fettel A Verstappen Quindi Lavoro incredibile In casa Red Bull Ma noi perdiamo troppo Nel T2 Troppo Vediamo un po' quanto guadagniamo Però nella parte Veloce Guadagniamo anche Sul nostro coperno di squadra Guadagniamo tanto Guadagniamo Tanto 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 Ok Oh non è uscito Molto bene Dall'ultima curva Valtteri Mentre fa 29.8 Noi 29.9 Ok Siamo in linea Con il primo Siamo in linea Con Max Verstappening Strategia alternativa A disposizione Sul DMF Strategia alternativa Mi dice il gioco Io ragazzi Non mi fido di queste gomme Soprattutto di una macchina Come questa Vediamo un po' Vediamo un po' anche il consumo 25% generale Da quello che posso vedere Non penso di rientrare Non penso di rientrare Al giro Non prestabilito Non ti chiamo tanto Non ti chiamo tanto ragazzi Mamma mia Questa parte qui Fatichiamo tantissimo La vettura è scarica Quindi sicuramente Anche per questo Però Nel tratto guidato Della Cina Non c'è niente da fare Lì a vola E c'è Vettel Che non è in zona DRS Se non vado errato Di Verstappen Mentre noi lo siamo Noi lo siamo Noi lo siamo Infatti no Vettel Forse si però Era in zona Noi rientriamo al prossimo Per non dar fastidio a Seb Ok 29.9 Ancora La costanza Ce l'abbiamo Costanza rules Come al solito Regna Sempre Sovrana Mentre ci siamo Invicinati un po' Tutti e tre A Max E Ghiotto invece È dietro Noi Proveremo L'Undercut Clamoroso Adesso Era programmato Al giro 4 La sosta E noi Al giro 4 Per l'appunto Ci fermiamo Non è ancora Perduto Niente Mamma mia Questa curva qua Non riesco A chiuderla È troppo Straripante La potenza Della Tatum Che non riesco A chiudere Quella curva Devri Fuori Se c'è la safety car Siamo fortunati È in quella curva lì Che perdiamo davvero Un'eternità Ora però Ci rimettiamo sotto Ma è vero anche Che tanto Dovremmo Dovremmo andare A box Quindi usiamo Tutto l'hers Vediamo Ok non male Non male Come rientro Vediamo un po' Come ci troviamo Rispetto a Max Verstappen Importante Questo La gara Entra Super nel vivo E siamo Veramente Lì Siamo Veramente Lì Pur partendo decimi Ce la possiamo giocare Ah Abbiamo perso Abbiamo perso tempo Cioè in realtà Forse no Da Verstappen Forse abbiamo guadagnato Ah però Siamo rimasti fermi Perché lui doveva Fare la sosta Attenzione perché Abbiamo guadagnato Tanto in realtà Dobbiamo tenere Il DRS Se riusciamo Il DRS Dobbiamo assolutamente Strapparglielo Non penso proprio Che riusciremo A scappar via Forse questo giro Non riusciamo a tenere Il DRS Ma Vediamo No per niente Guadagnano troppo Questa zona Ah Siamo lì Siamo lì Per il DRS Però Lo avremo sicuramente Al prossimo Al prossimo giro Quanto meno O il prossimo O il prossimo La prossima zona Sicuro Ok Siamo attaccati A Max Quindi Vuol dire Che saremo attaccati Anche Al nostro compagno Di squadra È la prima volta Che non c'è una Tatum Che Domina un gran premio Siamo davanti Siamo davanti Al nostro compagno Di squadra Siamo davanti Al nostro compagno Di squadra Attenzione È la prima vera volta Davvero Che c'è un Pilota sconosciuto Davanti Ed è Max Verstappen Ovviamente Il miracolo Li fa lui Lo sappiamo È addirittura È a 1 e 2 Sebastian Occhio perché Siamo lì Franco Bollati Franco Bollati Decidete voi Che marca da bollo Inserire Attaccare Sarebbe meglio dire Speriamo davvero Che non abbia Il DRS di Manusen Wow Quanto vola Quanto vola In questa zona E Verstappen è arrivato Sfida completata Meglia scuderia Ok Bottas è fuori Dai giochi Verstappen Ha il DRS Forse no Oh mio dio Che velocità Ha fatto una staccata Paurosa Ragazzi Mi sono Dovuto Fermare E congratularmi Con lui Ha fatto una staccata Paurosa Non l'avrei mai Immaginato Dall'IA Vi assicuro Che mi ha stupito Ora proviamo Un attacco Alla Alla Ghiotto No Non è possibile E se è meglio Fettel È arrivato Super vicino Penso che perché Sì perché Noi Fatichiamo Nel T2 Però Vero Johnny Guardate un po' Che Curo abbiamo fatto Stavolta Stavolta È corpa nostra Corpa Tutta nostra Corpa Però Sul dritto Ne abbiamo Incredibile Che Fettel Non riesca Ad arrivare A Max E a me È proprio Sono proprio Quelle due curve Che mi fanno perdere Una marea Occhio perché Siamo più vicini Però stavolta Siamo più vicini Metà gare Siamo più vicini Dentro Ok Brutto Bruttino 29,5 Taglietto Che ci ha Condizionato Occhio perché Non è finita Magari sul dritto Non siamo Facili da superare Ma È una pista Molto complicata Per noi Vediamo un po' Mi stupisce Questo Sebastian Fettel Che non riesce Ad avvicinarsi Adesso magari Sì perché Adesso È sotto Il secondo Su Max Noi dobbiamo Tenerlo Sopra il secondo Così per Iniettiamo La terza Doppietta In quattro Gare Magari Della Tatum Ovviamente Aiutiamo il nostro Compagnolo di squadra Tuttavia No no Va bene Aiutami Il compagnolo di squadra Anche perché Saremmo Siamo messi Molto bene Forse volevo dire Quarta No No Terza doppietta In quattro gare Sì È vero È vero È vero Molto vero 1-2 in Australia 1-5 Se non vado Errato In Che pista era In Bahrain 1-2 in Vietnam Comunque Non mi dà I giri veloci Perché ho tagliato L'ultima curva E mi ha dato Anche questo giro Dove l'ho tagliato Come giro Invalido Un po' No sense Come cosa Comunque Stiamo smegendo Un pochino Un bel po' Di più Rispetto a Vietnam Dove effettivamente Ne avevamo Veramente di più Qui Non è proprio Così scontata La cosa Se poi succedono Queste cose qua Capite che Siamo in difficoltà Occhio Ma che fatica Nel trazionare Quando le gomme Iniziano ad andare Un po' Un po' Su con le temperature Ma più che altro Proprio le temperature Della carcassa Occhio a Seb 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 è secondo E noi ora Dobbiamo stare Molto attenti Nel non tagliare Ci proviamo Ci proviamo Proviamo a vedere Se riusciamo a guadagnare Qualcosa comunque Nei confronti del nostro Rivale numero uno Un Verstappen Che è ancora autore Del giro record Non va bene Sta cosa Il giro record È un'esclusiva Tatum Quest'anno È un problema Eh ragazzi Fettel Nel ultimo dei giri Poi ricordiamo Che va forte Fa il doppio È un problema Perché va fortissimo Verstappen è fuori Eh va forte Sì ragazzi Nel momento Riusciamo a reggere Non dobbiamo fare Un taglio Abbiamo guadagnato Due decimi Forse Due decimi Nell'ultimo settore Praticamente guadagno Magari due decimi Nel primo Si annulla nel secondo E guadagno due decimi Nel terzo Ma è poca roba La differenza è minima Stavolta 11 di 14 Nuvoloso Si annuvola un pochino Tutto Penso che ci penserà Serve a fare il giro veloce Anche se non mi va Questa cosa qua Non mi va per niente Meglio qui Aspetta prima Faranno molto meglio Di 29 5 29 6 Che mi hanno annullato Per via dettaglio Bene Largo E' un pochino E' un pochino di giro veloce Facciamo noi la vittoria Mi dispiace Da quello che stiamo dimostrando Anche adesso Ok La qualifica Un secondo e mezzo Meglio Ma poi Seb Uccellato in gara Da Verstappen E' da noi E noi ancora Non abbiamo detto Di no Al giro più veloce Ti proviamo E' da grattare Troppo il naso Aiuto Attenzione Oh Peccato qui Peccato per l'accelerazione Scadente Stuzzicadente Non ha senso Andiamo 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 Oh buona Qui Ho bloccato Quella ruota Ho bloccato Con la ruota Di destra Non capisco Come mai Altro decimino Guadagnato E adesso Arrivano I due giri Dove loro Vanno fortissimo Noi comunque Abbiamo fregato Il giro A max Quindi di conseguenza Al momento È nostro Ma dipende Sempre solo Da loro Oh Mamma mia Lungo Ci resta Abbastanza Carburante Per un solo Giro Un brutto Errore Quello Un fuori Cavolo Era quasi Alla fine Andere in zona Punti Giro Della vita E non so Quanto siamo Lenti Noi Un po' Giro Della vita Però Di Sebastian In questo momento Tanto stavo guardando Un po' La mappa Completa E noto Che la L'Alfa Romeo È veramente Messa male Quest'anno La Williams È salita Tanto Davanti ad Alfa E Haas Forse Forse Ce la facciamo A fare Il giro Record Vediamo Ultimo giro Ormai Proviamo a rifarlo Eh Insomma Nel T2 Ma Insomma Insomma Vediamo Eh Ciao Sta Sta volando Seb Sta volando Da quello che posso capire Sta volando Infatti che Restiamo anche senza Benza E allora Allora L'ultima curva Diciamo Anche Diciamo Anche Che Giù La staccata Vince Il Gran Premio Della Cina E vediamo un po' Se ha fatto anche Il giro record Diciamo Questo Diciamo Dal decimo Al primo posto Attenzione Che gara Stupenda Da parte di Giù Che gara Stupenda Stupefacente Soddisfattissimi Soddisfattissimi Vai 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 Sì 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 Ragazzi Che bello Che è È Solo i nostri Ah strano vedere Renault Quando è Ferrari Fa male questo Fa molto male Fette non è molto contento Quattro gare Quattro vittorie Tatum Due A Testa Oserei dire Due A Testa Stai attento Seb Stai attento Seb Record sul giro Di chi è Yes Yes boys Yes All'ultimo giro L'ha fatto Il pilota proprietario Grazie Attenzione 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 Passa Siamo sempre super in testa La classifica Mannaggia La Red Bull Ci ha superato Ha superato Ha superato La Ferrari La Renault invece Malissimo Malissimo Dopo una vittoria del genere Ragazzi C'ho una fame Che non avete idea Infatti vado subito A mangiare Direi che Ci possiamo Salutare qui Ragazzi Anche Magari Se volete fare un salto Dopo la live Dopo il video Soprattutto che è uscito sabato E io sono in live Dalle ore Penso 14 Per una 9 ore Fino a mezzanotte Una 9 ore di gara Che starterà Alle 15 Se volete fare un salto Dato che questo video Dovrebbe uscire Alle 17 Venite in chat Su Twitch Trovate il link In descrizione Scrivetemi Non lo so Scrivetemi Io c'ero A caso Io c'ero E io capirò Ok Io c'ero Però non scrivete Spoiler Ah grande gara Non scrivetelo Quello Per favore Attenzione perché arriva Oh mamma mia Arriva il Gran Premo d'Olanda Tosta quella ragazzi Vi do appuntamento Ai prossimi video Con Jules E con Il REC E con Assetto Corsa Competizione Tra l'altro Ne uscirà uno Veramente figo Assetto Corsa Competizione Vi aspetto Ciao Ciao